L'attività del cavabasket sta contribuendo a far appassionare i cavesi alla palla a canestro. Nella stagione appena trascorsa, tuttavia, alla crescita del settore giovanile, ha fatto da contraltare la pessima stagione della prima squadra nel campionato di promozione regionale maschile. Per rilanciare le ambizioni della compagine meteliana, la società, presieduta da Niccolò Farina, presenterà domanda di ripescaggio per partecipare al campionato di promozione. La domanda quasi certamente verrà accolta. Così, per guidare la squadra, è stato scelto un tecnico dal curriculum importante. Pino Ferrara, allenatore cavese che vanta importanti esperienze fra i campionati di Serie C e D. Coach Ferrara, in carriera, ha guidato il cavabasket, la palla a canestro Salerno, il rim battipaglia, Sarno, Nola, Saviano e Bellizzi, dove ha sfiorato la C-Nazionale. E l'anno scorso la Ippo-Salerno. Il coach, appena ingaggiato, sostituirà in panchina Marcello Bisogno, che ricoprirà invece la carica di assistant coach, oltre che di direttore sportivo. L'obiettivo dichiarato del cavabasket quest'anno è il raggiungimento dei play-off promozione per la Serie D. Per questo, la dirigenza si sta già adoperando per arrestire un roster, caratterizzato dal giusto mix di gioventù ed esperienza, che possa competere per raggiungere gli ambiziosi traguardi prefissati. Per fine agosto, ci sarà il raduno e la presentazione ufficiale a città e stampa dell'organico della prima squadra, del settore giovanile e di quello societario.